Cura cifra, fingiti Cari, perché sparate? Eh? Perché fate questi RDM? Senti, andiamo là sopra Riusciamo ad andare là sopra Non abbiamo armi Allora, perché? Cura questo, curalo Porta su anche quello di giù, dai Però ora gliene diciamo due Perché sparate, caro? Ci stavano a saltare il ghetto prima, pensavo che eravate uno di loro Eh, ok, non è che se tu pensi, allora spari a tutti Eh, vabbè, vi siete fermati qua davanti Spermati, eravamo in movimento, eravamo in pieno movimento Eh, vabbè, io ho visti fermi qua davanti Se no non vi riuscivo manco a cidere per la mira che c'ho Sì, ho capito, ma lo sai che tu prendi ora il ban Lo sai, lo sai le conseguenze dell'azione che hai fatto Che comportano ad un ban? Sì, ma più che altro non lo sapevo, città gente fino a mo che sacco davanti Dammi la pistola Io devo dargli la pistola a lui, gliela dono? No, che sceglie la devi da Ha detto che è un angioletto È una metafora, non è che mi devi da la pistola Nel senso che la devi portare, non devi sparare a chiunque passa Ah, no, vabbè, è giusto, però c'è... Ma non è nemmeno in zona rossa, ragazzi Sì, è zona rossa No, non è nemmeno in zona rossa, non è che spari ed è zona rossa No, non l'hai letto il regolamento Premete F8, fate story mode, fate story mode Dieci minuti senza sparatore Come stai scherzando? Ecco il primo andato, fai story mode oppure... Ma stai scherzando? Fai story mode, sennò questa è la conseguenza Scrivi F8 F8, fai... F8 story mode Così devi scriverlo, tu scrivi male F8 devi scrivere story mode e invii Eh, ho inviato, story mode inviato Invalid command, mi dice Allora non l'hai scritto giusto Sì, ma F8 lo devi scrivere story mode, lo devi scrivere pulito Così, story mode, senza slash, senza niente Oh, lo sto scrivendo uguale S-C-O-R-Y-M-O-D Eh, mo... La E, dopo la D la E Ah, ok, scusa, c'è ragione Story mode Eh, vaffanculo Eh, vaffanculo pure te, dai, via Ho sbagliato, comunque hai la patente del 125, vero? Sì Buona fortuna, dai Spero la prendi, spero la prendi, dai, dai Bella, bella Eh, lo so Allora, andiamo a prendere... Un attimo, permesso Ti non ho rotto il cazzo, però Oh, stai calmo, permesso, ti ho chiesto Permesso Oh, attento, attento Io, comunque, sto registrando tutto E voi finirete in caff No, siamo lo staff noi Aspetta, te la... te la giusto, vieni È per subito E dammi più i soldi, perché adesso io ho fallito No, daglieli, daglieli Caro 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 Di che? Per arrivare i soldi, per avere i soldi Devi premere F8 e scrivere story mode con la Y e la E Sennò non ti arrivano È il bonifico degli staffer Non te l'ho fatto No Non ci credo L'ho fatto subito Subito, bravo, è l'attivo Medico, sono un angioletto Accosti Accosti Scendi Perché hai restato a quello là? Cosa vuol dire? Era azione in corso Perché hai restato a quello? Ah, e non ce n'è nessuno No, non ce n'è nessuno Non è che il tuo amico lo sai che comporta il ban di tre giorni questa cosa qua Eh, mi scusi, ma non ce n'è nessuno intorno Che dobbiamo fare? Ti devo bannare? Beh, mi dispiace molto, ma non... Allora, senti, famo così Così almeno Ti dovi sto vizio Premi F8 e scrivi story mode con la Y e la E Almeno risolviamo così Vai Non ci credo Non ci credo Non ci credo C'è questo mare so... No, vabbè Non ci credo Non ci credo